No, non scende nessuna tacca, leggetele, vedetele, io le ho pronte, non sono contro nessuno, ma la famosa tacca della legalità non può essere misurata su altre cose che non siano le esigenze di questo Paese. Noi siamo al 170esimo posto, poi le classifiche valgono quel che valgono, ma insomma sui temi della corruzione, è uno degli elementi di abbattimento drammatico della competitività del nostro sistema, come viene percepito. Io non intendo venir meno, ci saranno leggi sul conflitto di interessi, ci saranno leggi per il reato di autoriciclaggio, ci saranno leggi anticorruzione, ci sarà quel che ho detto. Come dire, non possiamo immaginare che queste esigenze rimangano inevasi in nome di una governabilità, perché non ci sarebbe governabilità nel senso comune del Paese. tutti quanti prendono atto di questa cosa e cerchino di dare il loro contributo perché il cambiamento non non sia un elemento di fazione. Io non ho voglia, in nome del cambiamento, di inalberare una politica faziosa. Io ho voglia, in nome del cambiamento, di dire diamo uno scatto di reni, tutti quanti questo Paese, sul fronte sociale, sul fronte della moralità pubblica, sul fronte delle riforme costituzionali, andiamo oltre il dibattito che c'è stato fin qui. Diamoci tutti quanti un colpo di reni su questo punto. Quindi io non abbasserò, non intendo abbassare gli obiettivi di una prima iniziativa di governo che, ripeto, è l'avvio di una legislatura, ai miei occhi, cioè è il tentativo ragionevole di dare un segnale di ricevuto alle esigenze del Paese, senza il quale segnale secondo me non si va da nessuna parte. Questa è la mia idea.